Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Rispondere al telefono non è una scelta. Rispondere al telefono non è un incidente, è un incidente. Grazie.